Professor Barbero, bentornato. Grazie, buongiorno. Alessandro Barbero, storico, guardate il titolo di oggi, C'era una rivolta perché in allarme, allarme, i priori fanno carne. L'Italia tra Medioevo e Rinascimento è il paese più ricco del mondo, del loro mondo. Certo, c'è una quantità di soldi che altrove si sognano, ecco. Firenze è una città governata dalla confindustria, diciamo così, confindustria, confartigianato. Loro eleggono direttamente il governo e gli operai invece non contano niente. E si rivoltano. La vita politica nei comuni italiani era una vita politica molto violenta. Multati, puniti. Un operaio che non aveva neanche i soldi per comprarci un paio di calzoni e che va a Palazzo Vecchio vestito appunto, oh ma figurati, erano quattro scalzacani, poveracci analfabeti, cosa vuoi che capissero? Ma vi conviene stare con questi poveracci? Non vi conviene stare con noi piuttosto? E alla fine, alla fine, gli esseri umani siamo sempre lo stesso tipo di bestia, ecco, comunque. Torniamo al XIV secolo e ai comuni. Assolutamente sì. Quell'Italia in mezzo al Mediterraneo, nelle condizioni economiche del Medioevo, è una posizione straordinaria. La monarchia, la Giovanna d'Arco che salva la Francia, ecco. Il raccolto era andato abbastanza bene, il pane costava poco, però neanche per idea. Anche i poveri, sì, ma perché però noi siamo i poveri? Perché quegli altri comandano e noi no, no? E tutti siamo sudditi dei nobili, i quali comandano, mantengono l'ordine, hanno tutti i privilegi, noi ci spacchiamo la schiena a lavorare, paghiamo, combattono per difendere il regno. E loro rischiano la pelle per difendere il regno. Bene, una volta che siamo tutti d'accordo che i nobili non servono a niente, ammazziamoli tutti. Questo. Ma dunque, io direi che, ma diciamo, capovolgere il mondo, fargli dare il giro proprio. Va bene, ammazziamo tutti i nobili, li cercano e dove li trovano li ammazzano. E c'è un livello di violenza estremo. I ribelli, i rivoltosi, gli insorti non avevano le idee chiare. Il discorso è, la rovina di questo regno è tutto l'apparato della giustizia. Quindi, quindi ammazziamo tutti i giudici, ammazziamo tutti gli avvocati, tutti i giurati. Molto sanguinario. Passata l'emergenza, le ottieni la grazia, tutto torna come prima. Sembra strano, ma nel Medioevo avevano già capito che le tasse, i ricchi dovrebbero pagare un po' di più dei poveri e in genere cercavano di farlo. Loro, se gli andavi a chiedere di pagare l'1% di tasse, ma siete pazzi? Non pagheremo mai. Non è mai fermo. È sempre tutto in movimento e gli interessi sono in conflitto. Poi un potere oppressivo o un potere molto abile. La cosa straordinaria è che nel Medioevo tutti appartenevano a comunità, associazioni, confraternite. Nessuno era solo. Tutti avevano in comune con tanti altri degli interessi e li difendevano in comune. La gente camminava molto. Uno faceva 20 chilometri a piedi. Noi quando mai li facciamo? Sai cosa abbiamo deciso di fare noi? Adesso andiamo al castello e lo prendiamo e lo demoliamo e ammazziamo il Signore. Che ne dite? Venite con noi anche voi. Perché? Perché ride questo? Non a caso non sono al potere. O meglio, no, non ci sarei comunque. Ma non a caso non ce l'ho neanche mai provato. No. Non è il mio mestiere, però io credo che veramente ci sono anche gli artigiani, a volte piccoli nobili di campagna, i preti. Sono sempre coinvolti i parroci. In Inghilterra ci sono parroci che sono alla testa dei loro parrocchiani, no? Credo che comunque queste cose ci saranno sempre. Si sfogano e noi sopravviviamo comunque. I priori, cioè il governo di Firenze, arrestano degli operai, li torturano. I priori ammazzano la gente. Perché, giovanotto, io studio la storia.